un saluto a tutti gli amici di smartworld.it benvenuti nei due minuti con smartworld di oggi lunedì 8 giugno 2015 una giornata tutto sommato tranquilla ma fra poche ore inizierà il wwdc quindi la convention per sviluppatori apple dove sicuramente scopriremo il nuovo ios 9 probabilmente altre novità come apple music su mobile world faremo la diretta e faremo il live blog quindi seguiteci su mobile world.it a partire dalle 18 e 30 di oggi su android world abbiamo realizzato la recensione di show me mi 4i eccolo qua one plus abbassato definitivamente il prezzo e ha lanciato anche un accordo con dropbox per avere un anno di dropbox incluso lanciato ufficialmente galaxy s6 active con una batteria da ben pensate 3500 mAh ma c'è un ma bello grosso che è sicuramente il lato estetico rumor voci di un galaxy note ripiegabile grazie a dei brevetti samsung Bose ha lanciato ufficialmente il nuovo soundlink mini ovvero la versione 2 abbiamo poi realizzato una guida per rendere ancora più interessante lo skybox lo sky online tv box e installandoci sopra plex lego ha poi lanciato almeno ha presentato ufficialmente il i suoi set per anzi di angry birds veramente lego non si ferma mai abbiamo due confronti che forse lasciano un po il tempo che trovano due confronti lumia dal mondo di mobile world ma è sicuramente gli spunti interessanti lumia 635 batte moto g come miglior smartphone economico secondo un premio che ha ricevuto mentre poi c'è un confronto interessante fra lumia 640 xl e pensate addirittura una reflex quindi una reflex contro uno smartphone di fascia se vogliamo bassa un confronto un po strambo ma comunque interessante aggiornamento per asfalto 8 per windows con nuove auto e nuove piste sembra che sony abbia confermato l'arrivo di apple music stasera al ww dc e concludo ricordandovi di nuovo alle 6 e mezzo insieme per il live blog appunto su mobile world punto it per questi due minuti con smart world è tutto un saluto da emanuele cisotti